e ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video oggi giochi oggi giocheremo a minecraft con un nostro amico eccolo qua mazio oggi giocheremo al wrestling su minecraft allora innanzitutto quindi non possiamo spaccare blocchi quindi iniziamo 3 2 1 vai tu 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 vai muori no no muori 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 vai e vieci vai e vieci morto aspetta devo recuperare la vita ok ragazzi quindi 3 2 1 vai non si può uscire vittoria non è vero non si può uscire è detto che non vale mi dispiace è pronto ne puoi andare in colonia ma te ne ho uso la spada no se tu esci uso la spada no col cacchio mo sono rientrato mo sono uscito mo sono rientrato perché ti è lontani perché te sei con la spada ragazzi ho vinto 3 non è vero non è vero è dolce vuoi è in modo 1 no guarda ma esce ehi ciao come ti chiami ti do un po' di dinamite se vuoi tieni ti do la dinamite oh ti do la dinamite eh vabbè io te la lancio io te l'ho lanciata io guardo che te l'ho lanciata Marzio TheGamerMarzio che stai guardando? come cacchio fai? so come bannarti come cacchio fai? non riesci a bannarmi tanto infilati nel buco con l'acqua guarda cosa c'ho scritto butta di nell'acqua butta di nell'acqua guarda cosa c'ho scritto butta di nell'acqua no butta di nell'acqua non so che mi voglio soffogare no non so non colore si con un blocco d'acqua soffoghi va bene perché poi tu me la lanci sopra no tanto qua non muori guarda c'è l'acqua non ti fa niente guarda guarda c'è l'acqua con un'altra per regalo te l'ho perso di vita col cacchio non hai perso niente non ti ho visto sei diventato rosso ma invece si non è vero comunque ho vinto io non è vero hai usato dei trucchi eh sì te l'hai usato la spada eh raga ho vinto io ormai non è vero è una schiata non so perdere vuoi che vinca non è che tu non è un'avventure tanto ma si piglia tutto e non è vero no andiamo in game mod uno giusto non esiste non è uno due zero non è zero ci ho già provato game mod zero scusa è tornata da avventure buu 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 eh tanto lo sapevo lo scudo della rivincita tanto guarda che ti dura poco non è vero c'è una rigeneranza ma lo sai che mo non puoi più fare niente perché dopo un po' si ferma l'acqua pronto dai e 10 10 buu 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 ma non fa niente l'acqua vuoi capirlo buu 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 eh lo faccio lo stesso eh sì però ti muove violento ah che benessere prendi l'acqua prendi l'acqua prendi l'acqua prendi l'acqua sai che quando mi asco fuori non mi ce l'è buu hai visto pure la spada di diamante sto figo eh raga aspetta 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 tu ti faccio vedere io guarda mo ti faccio vedere io ma te faccio vedere io se fai in te Così ti uccido Ma prima che esplode Eh c'è paura C'è paura C'è paura C'è paura No non c'ho paura per me 10 frate Perché scappi 10 frate Perché forse è 3 di vita Dai Su ce la posso fare C'ho paura raga Questo tizio non mi uccide Vieni qua Spacco la terra Oh grazie mi hai dato pure una spinta No non mi hai fatto nessun danno Non è vero Oddio è tutto colpito Vieni qua Eh te scappi Eh ti è viva Oddio Oddio Cacchio Cacchio ma lanci Sto a morire Della fame Quanta fame hai? Un botto Solo che c'ho poca vita Quanta? Mezzo cuore Tre cuore Tre cuore e mezzo Ragazzi voi non sapete quanto sto usando il pulsante salta No Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Ci do una spada se viene Sì proprio Sì guarda Te la lascio qui Dai lanciala Battene Del tutto Lo sapevo Vieni qua Lo sai che cosa faccio? Un'astronave Che bella astronave Ma ora doveva lo so? Vabbè Ma che maglia di No Sì Ho visto la data Non è vero Devo si cheat Nella vita reale Dove stai Marzio? Dei gamer Marzio? Eh? Dove stai? Dove stai? Raga Io sono uscito Perché lui vara E te allora Con la spada? Vabbè Quindi ragazzi Spero che il video vi ci ha lasciato Se non è piaciuto Se iscrivetevi E ci vediamo al prossimo video Ciao